Sono Molly Bloom. Ha sentito parlare di me? Ho letto le accuse contro di lei e ho comprato il suo libro. Ha capito che è accusata di gestire una rete di gioco d'azzardo illegale? Mi vuole come sua cliente? Non penso di riuscire a convincere i miei soci a scommettere sulla principessa del poker. Crede che una principessa possa fare quello che ho fatto io? Questa è una storia vera, ma a parte il mio tutti i nomi sono stati cambiati. Ciao Molly, la mia partita a poker si terrò al Cobra Lounge. Oggi tocca a te. Mi sono ritrovata con stelle del cinema, registi, magnati, che continuavano a puntare tutto quello che avevano davanti. Grazie Molly. Per te. Grazie. Non ti pago più. Sei la mia assistente. Vuoi cacciarmi? Non voglio cacciarti, ma voglio smettere di pagarti. Ti paga già il gioco, non mi sembra giusto. Tu qui non conti niente. Fu tale l'umiliazione da spingermi a trasformare la frustrazione in rabbia. Non mi ci è voluto molto per mettere in atto un piano. In questa suite si giocherà ogni martedì sera. Primo buy-in 250.000. Giochiamo? Ha visto i nomi di chi è accusato insieme a lei? Molly, quanto erano stretti i suoi legami con la mafia russa? Ti faranno fuori, Molly. Hai costruito un impero di milioni di dollari soltanto grazie al tuo cervello. Sto per andare davanti alla Corte Federale. Beh, nessuno è perfetto. Ci hanno fatto un'offerta. Totale immunità. Consegni gli harddisc. Ha visto che cosa c'è in quegli harddisc? Famiglie, vite, carriere sarebbero rovinate. Vuole pagare solo lei? Dove sono quelli che vuole proteggere con suo silenzio? Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!